Io non ce l'ho con te, ma voglio scherzare, uno scarapaggio dentro una cosa del caffè. Signorina, c'è uno scarapaggio qui dentro! Allora, lei innanzitutto mi chiede un responsabile. Io sono qui. Ma non ce l'ho con te, ce l'ho che questo deve essere chiuso all'istante, in questo istante deve essere chiuso. C'è uno scarapaggio qua dentro, lo comunica a tutti. Io vi invito a non prendere... Ma devono scherzare, non ce l'ho con te, però tu hai visto uno scarapaggio, devi avvisare la gente che c'è uno scarapaggio. Ma devono scherzare, ma devono scherzare. Io vi mando su tutti i giornali. Ma non è un senso, è uscito la sua pagina, è la signorina che la responsabile mi dice cosa mi dice. No, io non ho finito di fare... Non mi offenda! Io sono cliente delle zone da una vita! Ma una cosa del genere che in vita mia non ho mai vista. Allora, scusatemi se ho urlato, Gabriele Paolino, l'allecchino del libro, io ho anche pagato, riveglio i miei soldi subito. Sono venuto per prendere, chiedo contesamente la guardia che conosco personalmente. Dov'è la guardia della sicurezza? Che ci sta nel piano sempre. In vita mia non l'ho mai visto adesso. Hai visto anche tu questo scarapaggio? Non l'hai visto. Lei l'ha visto questo scarapaggio? Ma viene dalle piante. Ho capito che viene dalle piante, ma è uno scarapaggio. Ma non ce l'ho con te, ma io ti voglio bene, però dovete chiudere. Dovete chiudere perché sennò vi faccio fidere io. Vi faccio... Non è un uomo! C'è lo scarapaggio! Dovete chiudere il locale! Chiaro?